Ciao a tutti amici, allora nel video di oggi andiamo a fare una reaction al video di Piz Io sinceramente non l'ho mai guardato, non conosco chi è, non so neanche se è un pro player oppure se è semplicemente uno streamer Però nei video scorsi, nei commenti, mi avete commentato più volte e mi avete chiesto di portare lui come personaggio di un react E quindi ragazzi in questo video finalmente lo verete Non dimenticatevi ragazzi di mettere un mi piace sotto questo video Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri video come questo Se volete che vi porti una reaction di un altro giocatore scrivete il nome di questo giocatore nei commenti E noi ragazzi partiamo Io do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati Invece a tutti i miei vecchi amici Bentornati Allora ragazzi iniziamo Questo video praticamente è una Una cap Ma perché è così aggressivo ragazzi, è sempre così aggressivo questo ragazzo Un coglione Ma di dov'è? Perché mi sembra di sentire un accento molto molto familiare Qua praticamente sta giocando una cap ragazzi Ha già ucciso un player All'inizio game Praticamente stavano luttando la stessa location Adesso qua Ne ha uno davanti Allora lui gioca da MK C'ha un botto di C'ha un'impostazione abbastanza alta di double movement Infatti vedo che quando Ci sono due giocatori Ce n'era uno dietro che lo stava Che lo stava rattando praticamente Voleva Voleva spammarlo da dietro No mamma mia Pericoloso entrare così Però ce l'ha fatta dai Ma Che audio carina che c'ha Nelle impostazioni di streaming Però non ho capito A che cosa ha reagito Non so se ad una sub O Scrivete ragazzi nei commenti Quanti di voi Guardano pizza Su Su twitch Sono curioso Perché Io ho sentito ancora Questo nome Però Io ragazzi Non spendo tanto tempo Su twitch Ultimamente Una volta si Una volta Lo usavo molto di più Adesso molto di meno Allora aspettiamo che esce questo Vediamo se Oh Giusto 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 No cazzo Ho scappato Avrebbe dovuto aspettare un po' Un po' di più Vediamo se riesce ad entrare Si 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 Oh Bene 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 Adesso ho preso su un po' di materiali Oh prendi il muro Ok scappa Hardhome Fatto 3 kill Ok si sta prendendo un po' di strutture Così Da avere più controllo A 27 di ping Niente male Come materiali messo bene Anche come armi Molto molto bene C'è il martello per spostarsi C'è le cure C'è di tutto Ok Adesso aspetta Aspetta di vedere Se si spostano gli altri Così Riesce a farsi qualche kill Magari Spammando qualcuno Oh tipo questo qua Ah cazzo Questo era Era molto Era molto buono Eh Con il martello ragazzi Spostarsi è veramente un piacere No c'è qualcuno fuori dalla safe Che Oh la madonna Ma come sono entrati sti colpi Ragazzi No Curati 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 Scappa Vediamo se Madonna Santa Quasi quasi riusciva ad uccidere Questo qua 4 kill Siamo a 4 kill Si mette sotto il cono Così il tipo non lo apre Non lo ammazza Beh Cosa posso dire ragazzi Non Ovviamente non è buga Però Diciamo che Gioca molto attentamente Gioca di brain Cerca di fare Più kill possibili Non Non pusha tantissimo Questo Questo è vero Questo Cerca di essere Cerca di giocare Molto più Molto più safe Ok Prende l'Aig Easy proprio Adesso starai in Aig La maggior parte delle volte Molto probabilmente Perché Di materiali ne ha Adesso deve Semplicemente Farsi qualche kill Prima di tutto Per farsi un po' di materiali Poi va bene Con il martello È un attimo Spostarsi Vediamo se rimane ancora in Aig Si rimane ancora in Aig Quanto pare Si 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 Uh no 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 Adesso ce n'è uno Sopra di lui Vediamo cosa fa adesso Sono curioso se Se lo pusha Deve semplicemente Dietare il muro In teoria Bravo Aia Aia Dai dai No Mi è mancato veramente poco Ragazzi Però ha pochissimo Metriali Ha soltanto 240 Di ferro Cosa fa? Cosa fa? No sei troppo lontano Deve farsi Questa kill Perché gli servono I maz Ah ok Ho messo molto male di maz 60 E 110 105 cioè Vabbè Sono rimaste sette persone Lui come al solito Ha 4 kill Vediamo se rimane in Aig Se rimane in AIG molto meglio No, non spendere così la cazzo I materiali vecchio Oh, sì, 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 sì Ok, adesso Quasi è full È full di ferro Top, 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 top Adesso si cura Tanto c'ha anche la splash Quindi buona Ok, adesso si sposta con il martello Non ha voluto fightare nella safe Ha fatto bene Dai cazzo, ammazzalo Sì Poi bisogna capire anche che Tanti di questi non hanno più Non hanno più tante cure Lui invece ancora c'ha 4 shield E poi anche di materiali Cioè di materiali come fine game Non è messo malissimo Ancora 100 Vabbè, adesso un po' di meno 80 80 di ferro Dai, dai, dai No Tutti che saltano con sto martello Dai, 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 dai Dai, dai, dai Oh, sì Ottimo Uh Cazzo Ne mancano Sono rimasti in 3 Figa Figa Tutti che salto con sto martello Che palla Figa Ui tu Ui, 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 ui Come ha fatto a fare quella kill Che culo Ottimo, ottimo Sono uno contro uno Dov'è? ah ma è morto di safe ottimo allora ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne hai pensato del giocatore che si chiama Pete, secondo me è un giocatore di un buon livello ma soprattutto il suo accento è veramente molto simpatico vorrei proprio sapere di dov'è non dimenticatevi di mettere un mi piace sotto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi altri video come questo vi ricordo che se volete supportare questo canale potete farlo semplicemente mettendo il mio codice creatore LASTG nella shop di Fortnite e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video io mi chiamo LASTHEROG GG